La vera sfida, la vera rivoluzione, la vera opportunità è conoscere i linguaggi con cui queste macchine si comportano. Chi li conosce domina e comanda, chi non li conosce subirà, ma fa parte dell'evoluzione della tecnologia dell'uomo, ripeto. La vera cosa nuova è che la cultura oggi è in linea di massima a disposizione di tutti, non esistono più limiti all'apprendimento, non esistono più veramente i segreti. Internet ha reso democratica la cultura, quindi io utilizzando internet in qualunque punto della terra posso imparare a usare questi linguaggi e sempre in più i linguaggi sono universali, quindi il robot, per quanto esistano diversi linguaggi di programmazione, ma sono pochi, ne conosco due, ne conosco tre e sono in grado di avere una mia professionalità che non è legata al mio territorio, è valida ovunque. Grazie a tutti.